Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Clicca in basso a destra sul tasto! Clicca in basso! Clicca in basso! Clicca in basso! ... ... ... ... Grazie a tutti.